Isola Vicentina, l'ultimo caso di un paio di giorni fa, dopo tre incendi dolosi dall'inizio dell'anno e caccia al piromane a Isola nella zona di Torreselle. Tre roghi a poca distanza l'uno dall'altro e il sospetto che si tratti di una persona del luogo. Nell'ultimo episodio hanno preso fuoco durante la notte le sterpaglie lungo la strada in via Lombardia, mentre in precedenza le fiamme avevano colpito un capanno degli attrezzi e all'inizio del 2019 un pezzo di bosco. Montecchio Maggiore, incidente stradale e una donna ferita in via Duomo. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo che una donna di 81 anni del posto ha perso il controllo dell'auto che si è schiantata contro il marciapiede e poi contro una recinzione prima di terminare la sua corsa rovesciata su un fianco. I pompieri hanno estratto dall'abitacolo la donna che è stata subito trasportata con l'ambulanza in ospedale per le cure e gli accertamenti. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi. Barbarano, Mossano e Sossano controlli straordinari dei carabinieri lungo le strade della provincia. Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Altre sono state segnalate per detenzione di droga per uso personale. Un trentenne vicentino era alla guida con un tasso alcolemico di 2,11 oltre 4 volte il limite mentre un 53enne era uscito di strada sotto l'effetto di droga. Un diciannovenne vicentino e un ventiquattrene del Gambia infine sono stati trovati in possesso rispettivamente di 5 e 13 grammi di marijuana. Noventa vicentina. Svincolo dell'autostrada 31 Nord chiuse l'entrata e l'uscita dopo che un'auto ha preso fuoco al casello e per consentire le operazioni di soccorsi dei vigili del fuoco. Un ventunenne di Monselice alla guida della sua auto si stava prestando a pagare alla biglietteria automatica quando si è accorto del fumo e subito è sceso dalla Peugeot 206 per mettersi in salvo mentre questa prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Este e Lunigo hanno spento le fiamme dell'auto e della biglietteria automatica evitando il coinvolgimento di tutta la struttura autostradale. Illeso il conducente.